L'Abruzzo almeno per oggi rimane in zona rossa, da domani tornerà in zona arancione. Un balletto di colori che abbiamo fatto commentare a rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, ma soprattutto, oltre al commento, abbiamo chiesto che cosa auspicano le associazioni di categoria in vista delle festività natalizie. Nelle ultime ore, credo di tutto, si poteva evitare che questa mattina tornassimo in zona arancione e lo provvedimento invece di arrivare ieri sera alle 8, poteva arrivare un po' prima, in modo che si consentiva alle persone oggi di potersi organizzare. Detto questo, questa confusione a noi non va bene, non si può più scherzare sulla pelle degli operatori, ma la cosa che mi preoccupa di più è che se noi da domani diventiamo arancione, se ci sono i dati che consentono alla regione Abruzzi di essere con i dati scientifici giallo, noi dobbiamo, si deve lavorare, si deve abbandonare la battaglia sui principi, evitare lo scontro politico, perché in questo momento non se lo possono permettere per rispetto a noi. Terza questione, non possiamo perdere il Natale, il zona giallo ci dobbiamo tornare da subito, perché dietro a tutto il sistema c'è una filiera fondamentale, che non è soltanto quella dell'attività dei negozi, ma la filiera dell'agroalimentare che ha subito un danno economico notevole. Perciò il buonsenso e la parola d'ordine, l'Abruzzo presto in zona gialla. Purtroppo questo balletto della politica che governa il livello regionale e nazionale si ripercuote sempre sulle aziende e questo non è più accettabile, oltretutto in un momento molto critico e molto delicato. È naturale che la condizione che si è creata oggi è una condizione che ha decretato comunque una situazione economica importantissima in negativo, perché far chiudere sabato le attività del commercio a due settimane dal Natale è inaccettabile. Volevamo vedere questa regione in una condizione migliore molto prima. Ci auspichiamo che il governo faccia esattamente una valutazione, soprattutto per l'Abruzzo che è una regione molto piccola, in funzione dei dati. Se i dati sono migliorati e possono essere considerati anche migliori dell'arancione, quindi andare in giallo, che si vada in giallo subito, perché l'economia, soprattutto del commercio, non può più sostenere un peso di questo genere. Oltretutto c'è da dire che c'è tutto il comparto della ristorazione che è fermo, bloccato al palo, anche per una regola che è inaccettabile, quella del Natale, dal 21 al 6, che non ci si può spostare, per cui il ristoratore che sta in un comune più piccolo non può reggere economicamente come un ristoratore del comune più grande. E poi ci sono gli ambulanti che fanno le fiere, che sono bloccati da febbraio. La situazione è critica, per Natale ci auspichiamo che tutto rientri nel più breve tempo possibile in una zona gialla. Certo è che siamo stanchi e questo non è più accettabile perché le imprese non reggono più questa situazione. Questi balletti della politica non possono essere sul groppone, non possono stare sul groppone delle imprese.